www.cartomantieuropei.com è il sito internet della organizzazione che produce questa trasmissione televisiva ma anche il sito internet di una delle più grandi organizzazioni presenti in Italia per quanto riguarda la cartomanzia telefonica uno dei centri più grandi, tra i più importanti, tra i più seguiti in Italia e nel centro Europa dalla mattina presto a notte fonda per tenervi compagnia per cercare di darvi supporto nel disbrigo dei piccoli e grandi problemi che la vita ogni giorno ci pone dinnanzi Allora Cartomanti Europei, uno staff fatto di persone molto serie, molto appassionate che vi consigliamo di conoscere un pochino più da vicino sappiate che il primo consulto è anche gratuito quindi sicuramente avete la possibilità facilmente di fare questa esperienza per la prima volta c'è scritto tutto su cartomantieuropei.com se non potete navigare, telefonate i numeri che vedete in sovraimpressione parlate col centralino, vi danno tutte le indicazioni del caso gli ultimi quattro segni, ripartendo dal sagittario Sì, per il sagittario è giornata difficile perché c'è una luna complicata in questo periodo in cui però le cose sembrano andarvi bene perché ci sono tanti pianeti favorevoli Venere, Mercurio, Urano certo, Marte opposto tende in qualche modo a complicare la vostra vita con degli imprevisti i guai, quelli che capitano tra capo e collo come si suol dire, questa è la classica giornata in cui qualcosa del genere potrebbe accadere quindi ci vuole pazienza, cercate di affrontare le difficoltà con il massimo della calma poi in serata le cose andranno decisamente meglio Dopo il sagittario c'è Capricorno Beh, per il Capricorno giornata positiva con una bella luna in vergine una luna che tende un pochettino a semplificare questo momento così impegnativo e devo dire anche pieno di dubbi da parte vostra è un periodo un po' confuso Mercurio in Ariete tende a rallentare anche i vostri progetti in ambito professionale lo stesso Marte vi mette un pochettino i bastoni tra le ruote e questa luna porta una schiarita anzi è la giornata giusta per prendere delle decisioni l'amore è sempre un po' conflittuale soprattutto in serata quando la luna passa in bilancio Dopo il Capricorno, l'Acquario? Beh, per l'Acquario giornata molto bella, giornata positiva sotto tutti i punti di vista Beh, voi non avete quasi nemici in questo cielo a parte il sole nel segno del toro che ogni tanto vi fa sbuffare vi lamentate per la stanchezza, per anche lo stress che andate accumulando però avete una grande vitalità, una grande vivacità una mente pronta, brillante, attenta i successi sul lavoro non mancano in serata luna magnifica per l'amore e poi in ultimo i pesci Beh, per i pesci giornata difficile luna opposta nel segno della Vergine problemi sentimentali in questo momento ce ne sono tanti incomprensione, incomunicabilità proprio con il vostro partner e questa luna tende a scavare proprio un solco con la persona che amate certo, poi farete un po' fatica anche nei prossimi giorni a recuperare una piccola crisi che ci può essere grazie a tutti